Un settore che è in staff con la direzione regionale che ha voluto e fortemente voluto questo progetto, Argini. Argini è un progetto di informazione e formazione a lavoratori esposti, deboli, quali sono i lavoratori migranti, per i quali ovviamente va data una minima informazione, così come previsto dal testo unico 8108. Per loro abbiamo preparato un lavoro di un anno circa di informazione costituita da opuscoli in lingua inglese. I risultati sono positivi perché si dà a lavoratori che non conoscono la lingua gli elementi base per la formazione.